Correre su terreni campestri o sentieri naturali insieme al proprio cane, legato con un'apposita cintura per il corridore e con una linea elastica che si aggancia alla pettorina dell'animale. Il tutto nel massimo rispetto del benessere del cane e coltivando un binomio che fa della corsa, un vero e proprio divertimento per entrambi. Si chiama Canicross, la disciplina sportiva i cui campionati mondiali si terranno dal 18 al 20 ottobre a Bardonecchia. La sede della città metropolitana ha ospitato la presentazione dell'evento. Il tracciato sarà testato nel corso di un evento in programma sabato 27 e domenica 28 aprile. Partenze e arrivo sono previsti al Campo Smith, con transito sulle piste da sci e sul sentiero Viduvio e passaggi all'Esarno e a Melese. Katia francese e lei è Raya. Raya, allora quanto è stato difficile addestrarla e quanta intesa c'è con lei? Allora, difficile zero, come per la stragrande maggioranza dei cani che praticano questo sport. Per loro è un'azione naturale quella di correre e spesso anzi la difficoltà sta nel non farli tirare durante le passeggiate. Quindi la prima cosa che si insegna durante il canicross è che finalmente possono tirare, possono stare davanti, si possono divertire. È uno sport che appaga tantissimo sia il cane che il conduttore, aiuta tantissimo a creare un legame e questo filo che noi chiamiamo linea che collega il cane al conduttore diventa una sorta di cordone ombelicale che si crea proprio con una magia durante la corsa. Quanto allenamento c'è dietro la partecipazione a queste gare? Tanto. L'allenamento serve a trovare un passo e una sintonia di binomio tra il cane e noi, che è la cosa diciamo più difficile ma anche più naturale che poi viene durante la corsa. Gli allenamenti si dividono sostanzialmente in tre, quindi c'è un allenamento solo umano, quindi proprio la pura corsa e molti nostri atleti sono seguiti anche dai personal trainer apposta per seguire dei piani di corsa. Poi c'è un allenamento dedicato al cane, dove il cane deve sempre divertirsi, deve essere un gioco per lui, ma deve anche imparare alcuni comandi, soprattutto per chi pratica questo sport con i mezzi, quindi con le biciclette e con le, si chiama scooter, è un monopattino gigante. Ovviamente quando il cane è attaccato alla linea e all'antenna con la bici e lo scooter è avanti due metri, quindi deve sapere destra e sinistra, fermarsi e i comandi di base. E il terzo componente dell'allenamento è la corsa in binomio, quella che dicevamo prima, dove una volta che noi abbiamo fatto fiato, una volta che il cane ha capito che cosa deve fare, allora lì ci si lega insieme e si trova il ritmo. Parliamo di età, da che età un cane, un cucciolo si può iniziare ad addestrarlo e fino a che età noi umani possiamo correre col nostro cane senza affaticarci troppo? Allora l'età per noi non è un limite, finché uno ce la fa lo può fare, il cane inizia le gare a 18 mesi perché lo sviluppo fisico deve essere completo, quindi dal punto di vista osseo e muscolare il cane non può essere imbragato e trainare, fare uno sforzo fisico di traino, di tiro, fino al prima dei 18 mesi. Ovviamente si inizia prima perché non è che fa 18 mesi, mi attacco e vado, però tutti i lavori che vengono fatti prima vengono fatti col cane libero. Lui è Eros, un bellissimo cane di razza Yakutian Laika. Come è venuta questa passione per il canicross e soprattutto quanto è stato difficile addestrare lui a obbedire ai comandi e a fare quello che il concorrente vuole? Per me in realtà è stato il primo cane, quindi da una parte penso di essere stato anche abbastanza fortunato, poi mi sono abbastanza informato sulle caratteristiche della razza e si sono dimostrate alla fine abbastanza gestibili. Abbiamo iniziato casualmente, abbiamo approcciato canicross per puro caso perché noi di nostro facciamo le nostre avventure in montagna, a giri in bici, poi a seguito di una giornata organizzata a Usseggio, vicino a dove viviamo noi, abbiamo iniziato a fare delle prove su slitta con anche la nostra femmina e da lì abbiamo iniziato a interessarci a questo mondo e a fare la nostra prima stagione. Il cane in salita vi aiuta, immagino, ma quanto è difficile gestirlo, abituarlo al fatto che deve stare a una certa distanza fissa da voi? Ma diciamo che nel loro istinto è quello di andare, tirare e sforzarsi, quindi è nel loro istinto quello di stare davanti, poi dipende dalla categoria a cui partecipi, devi essere tu bravo a non magari superarlo, non dargli incontro, ad esempio in bici devi essere bravo a tenere sempre la linea ben tesa. È una razza bellissima quella di Eros ed è in arrivo una cucciolata, un cucciolo. Sì, speriamo più di uno, è appunto in arrivo la cucciolata, noi abbiamo a casa una femmina bianco e nera con gli occhi azzurri, si chiama Seia e ha due anni e mezzo. Lunedì avremo la lastra per la conta dei cuccioli. Chau! Chau! Lassà! 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 Grazie.